Benvenuto a Lingotree, la serie online Parliamo Singalese. Nell'episodio di oggi, impareremo i pronomi personali soggetto singalesi. I pronomi personali soggetto, ci aiutano capire chi sta compiendo l'azione. Essi sono Mamma Io Oia Tu Ea Lui Ea Lei Eke Esso, essa Api Noi Ogollo Voi Egollo Loro Mamma Oia Ea Ea Eke Api Ogollo Ego 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 Mamma Mamma pizza velata kemati Io amo la pizza. In questa frase, mamma, è il pronome personale soggetto. E rappresenta la persona a cui piace la pizza. Oia 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 godak padam karnava. Tu studi molto. In questa frase, è il pronome personale soggetto. E rappresenta la persona che studia molto. Ea 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 Mi trascili Lui è simpatico. Ea Ea Lassanai Lei è bella. Eica 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 E buono E buona Riferito a cose e animali di entrambi i sessi. Api Api Ghe 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 Noi andiamo a casa. Ogollo 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 Italica Ghe 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 Loro sono bravi. Mamma Oia Ea Eia Eica Api Ogollo Egollo Sei riuscito a memorizzare tutti i pronomi? Se sì, prova a tradurre i seguenti pronomi in italiano. C'è Eica 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 Ben fatto! Ora, completa le frasi, utilizzando questi pronomi. Ego, l'ho andai, mamma italica, ti keg, ea narakai, api, yaluo. Eya, lasse nai. o 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